Ci troviamo a Las Vegas al Pizza Show. Qui abbiamo il tecnico dell'Ital Mill, Tiziano Casillo, che sta facendo una dimostrazione di cottura pizza alla napoletana con il forno a gas rotante della Morello Forni serie FGR, definito fuoco la mosaica. Grazie. Mazzarella a fior di latte, rigorosamente tagliata a mano. Tipica manipulazione. Grazie. 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 Abbiamo impostato un programma da 90 secondi per la tipica cottura alla napoletana, finito il tempo e le pizze sono tutte ben cotte, senza l'ausilio del pizzaiolo durante la cottura.